E? Com'è? Deco un famigliato di oggi, no? Burro. Famigliato. Una botta di un arbotaggio. C'è stava bene, un po' di beve e una grattugiata dell'ardufo sopra. E poi, se te li ho potete voler. Lo registrano, mi ha detto Novelli, e lo manderanno in differita, non si sa quando, però alle 21.20. Ok? Rishi sta qua? No. Come va? A posto. Ok? Hanno blu tutte e due. Via, li avete registrati? A posto è ancora nessuno. Che guai è che siamo stati registrati? No, le ragazze! Mettete qui! Bastarda! ci vedi? Ci vediamo! Ci vediamo! Ci vediamo! Grazie per aver guardato il video. Grazie. Vedi che sto a fare la ripresa quadrata? E' molto più drammatico, certo? Non dovremmo affrontare queste pezzerie. Grazie. Cazzo. La puoi partire? Sì. Vedi che si sveglia di più. 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 Vedi che si sveglia. Begnelli. Vedi. Chiudi, ma chi è che stai chiamando tutto? Chiudi, grazie. Chiudi, ma chiudi? 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 ...dove sono? scusate! io penso che siamo raggiunti. ...e la ragazza rossa! ...e la neve e la nuova! ...e 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 la nuova! Yeah, we had the fight today, yeah. Forte Wellington nel corato di Via Gavina per il sostegno al vertiero, portico a tutte le azioni, tutti i colori. Mission Chips, Via Trescenzio 56, il mare al centro di Roma. Via Trescenzio 56, il mare al centro di Roma. Via Trescenzio 56, il mare al centro di Roma. Via Trescenzio 56, il mare al centro di Roma. Via Trescenzio 56, il mare al centro di Roma. Via Trescenzio 56, il mare al centro di Roma. Via Trescenzio 56, il mare al centro di Roma. Via Trescenzio 56, il mare al centro di Roma. Via Trescenzio 56, il mare al centro di Roma. Via Trescenzio 56, il mare al centro di Roma. Via Trescenzio 56, il mare al centro di Roma. Via Trescenzio 56, il mare al centro di Roma. Via Trescenzio 56, il mare al centro di Roma. Grazie a tutti. 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 a tutti.